per me è stata una giornata complicata a livello personale e quindi vi chiedo scusa anche il mio ritardo su su questo post partita ma ho preferito farlo con un attimino di calma respirando e riflettendo anche su quello che è stato secondo me un grande regalo un grande grandissimo regalo che ci ha offerto il calcio in questa giornata qui perché io ero carico di vedere questa finale di coppa del mondo ve l'ho detto dagli ottavi di finale in poi è stato un mondiale che mi ha preso tanto nonostante la juventus che non giocava nonostante l'italia non qualificata dagli ottavi in poi è stato veramente un bel mondiale secondo me ho sentito tante persone dire il contrario ho letto anche tanti commenti che non erano d'accordo invece a me è entusiasmato io fin dall'inizio speravo auspicavo in una finale con messi o ronaldo o entrambi perché immaginare uno dei due almeno uno dei due campioni del mondo ci doveva stare all'interno della carriera pensare invece nessuno dei due vincerà mai il mondiale beh era probabilmente troppo perché chi è cresciuto negli anni 90 come me chi è nato negli anni 90 è cresciuto negli anni 90 che ha vissuto questi campioni dal mondiale 2006 in poi forse anche qualcosina prima in realtà questi giocatori hanno veramente insegnato hanno scritto la storia con le loro mani e uno dei due doveva vincere il mondiale per forza di cose e quindi io non potevo tifare Francia e lo sapevate ne avevo già parlato ero convinto potesse vincere la Francia è stata una partita molto più equilibrata probabilmente di quanto non potesse aspettarmi ma quello che abbiamo visto oggi è stato davvero un regalo eh un regalo da custodire a tenersi stretti perché perché partono piano queste due squadre cioè all'inizio sembrava una partita un po' più davvero buttata lì poi passavano i minuti e c'erano dei blocchi in cui dominava l'argentina dei blocchi in cui dominava la Francia dei blocchi in cui l'occasione arrivava da una parte e i blocchi in cui l'occasione arrivava dall'altra cioè io non ricordo forse una partita di un'importanza così alta con una tensione così grande da parte mia nell'osservarla e anche le persone che erano con me a vedere la finale anche persone che di calcio non si intendono non si interessano erano lì incollate con gli occhi alla televisione mi chiedevano di spiegare le cose che stavano accadendo mi chiedevano informazioni background ma queste cose sono normali queste cose accadono forse è stato bello anche per quello perché comunque vedere che un prodotto del genere riusciva a tenere incollate anche persone che davvero il calcio non lo vivono per me è stato uno spettacolo ragazzi per me è stato uno spettacolo poi io mi sono veramente esaltato e reso conto di quanto potesse essere bella quella partita quando a pochissimi istanti dalla fine quindi la partita era ormai conclusa la Francia un'occasione colossale per fare gol e sulla ripartenza Lautaro poi la butta fuori i test c'è occasione da parte e occasione dall'altra sul filo del rasoio un contropiede dopo l'altro picchiarsi rincorrere correre giocate velocità dribbling saltare l'uomo ti rimporta c'è stato tutto c'è stata la grinta c'è stata la voglia c'è stata la magia la passione la finale di coppa del mondo 2022 ragazzi io ce me la porterò dietro per sempre per sempre e ho tifato per i calci di rigore ho tifato veramente per i calci di rigore perché non volevo che potesse mai finire sta partita perché era diventato troppo bello era ormai uno spettacolo era troppo entusiasmante era troppo fantastico il tutto palcoscenico perfetto per una finale perfetta in cui si affrontavano Messi e Mbappé due che come ho scritto poi sui social ragazzi ma questi fanno uno sport che è diverso dal calcio calcio è uno sport bellissimo fantastico la finale che abbiamo visto oggi fantastica complimenti a Francia complimenti a Argentina ma Messi e Mbappé non... cioè è stata Argentina contro Mbappé e Francia contro Messi per tanti momenti della gara quindi possiamo dire che è stata la finale di Messi contro Mbappé possiamo dirlo? è più forte uno è più forte l'altro guardate non me ne frega neanche più niente perché quando arrivi di fronte a queste cose qui io penso solo che sia necessario alzare le mani e ringraziare e ringraziare davvero ringraziare per lo spettacolo del genere lo vedi tanto cioè dopo la nostra finale Coppa del Mondo 2006 che va bene è stata bellissima perché è la nostra quella del 2010 col gol di Niesta quella del 2014 con il gol di Gosse l'ultima della Francia sì 4-1 comunque spettacolo bene ma c'è stato dominio monopolio ormai sapevi già portarsi una finale Coppa del Mondo così avanti sotto le due ripresa poi sotto e poi ripresa e davvero mi sono reso conto che stavo andando oltre la mia passione perché io l'ho detto dal momento in cui è iniziato tutto vi ho detto io spero che non vinca la Francia perché non mi stanno simpatici e spero che vinca che possa vincere uno tra Ronaldo e Messi quindi oggi ti favo Argentina cioè ti favo ero più vendevo dalla parte argentina sicuramente non ti favo simpatizzavo preferivo ecco questo credo che sia stato il mio corretto per Messi per Di Bala parzialmente anche per Di Maria poco per Paredes questo non lo nascondo faccio un po' fatica a essere felice per Paredes ma per Di Bala tantissimo con quello che ha dato la Juve tantissimo per Messi tantissimo per quello che ha dato al calcio Di Maria tantissimo per quello che ha dato al calcio quindi la mia preferenza era sulla argentina anche perché la Francia mi sta simpatica ma quando sono andati ai calci di rigore che pronti via Messi in Bappé poi sarò troppo romantico va bene buttiamolo nel calderone i due numeri dieci tutti e due con il numero dieci sulle spalle un numero numero magico dai su non prendiamoci in giro nel calcio quel numero lì è è magia stop magia è stop e quando hanno battuto i rigori io avevo l'ansia perché non volevo un errore di nessuno dei due dovevano segnarlo tutti e due il rigore in finale mondiale non potevano sbagliarlo quando Messi si è preso il pallone dello 0 a 0 sullo 0 a 0 per uno a 0 avevo un'ansia incredibile quando se lo prende Bappé che si carica la Francia sulle spalle avevo un'ansia incredibile quando nella lotteria dei rigori finali vanno a battere i rigori avevo un'ansia incredibile io non riuscivo più a lavorare in maniera lucida ero talmente tanto innamorato di quei due calciatori lì per quello che ha fatto nella storia Messi per quello che mi ha fatto vedere Bappé in pochissimi anni di calcio che io non volevo davvero non volevo vedere sarei andato ad oltranza avrei voluto i rigori ad oltranza per vedere ancora Messi in Bappé ancora una volta calciare dagli 11 metri clamoroso 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 io non sono felicissimo sono felicissimo perché Pottomarate poteva essere qualsiasi squadra in campo stasera uno spettacolo del genere un'adrenalina del genere difficilmente replicabile ma poi Deschamps che fa due cambi al quarantesimo la Francia con la febbre dei cammelli cioè è stata una roba strana un mondiale d'inverno con una con un'africana all'interno delle prime quattro cioè sono successe tante cose strane stranissime però Messi ha vinto il mondiale finalmente finalmente Messi si porta a casa una coppa del mondo un po' discutibile come l'ha alzata la coppa del mondo perché quell'abito nero non so se nella tradizione argentina o quella personalmente non mi piaceva però avrebbe preferito vedere normalmente però dai è stato clamoroso clamoroso ci chiude veramente un capitolo della storia quello è il calcio oggi eh ragazzi Ronaldo Messi finisce un po' la diatriba sugli alti livelli e Messi si porta a casa la coppa del mondo che non significa Ronaldo Mario Messi Messi Mario Ronaldo non me ne frega niente di sta roba qui vi sto dicendo che si chiude una pagina di calcio e se non si riescono a godere queste cose si vuole lo sfottò secondo me si perde tanto troppo di essenza di amore per questo sport e poi vabbè ma beh sua seconda coppa del mondo di fila dopo domani fa 24 anni perché con 98 ha già giocato due finali di coppa del mondo quattro gol in finale di coppa del mondo otto gol in questo mondiale capo canoniere di questo mondiale cos'è quota 12 13 gol ai mondiali in due mondiali giocati close il primo in classifica no? all time quota 16 questi due mondiali è già lì come l'argentina non è nemmeno la squadra più forte di questo mondiale anzi ricordo quando abbiamo fatto il post partita di arabia saudita argentina mi avevo detto oh ragazzi ma i messi di maria mi hanno deluso oggi mi hanno deluso perché non puoi giocare così nella coppa del mondo non puoi non puoi queste partite devi trascinare veramente la nazionale adesso l'hanno fatto oggi di maria ha fatto un partitone si procura il rigore dell'1-0 fa il gol del 2-0 io tra l'altro quando ho visto di maria in titolare ho detto boh ma davvero di maria solo l'ha fatto ma poi di maria che piange messi che piange ragazzi messi che davvero che fa il gol del 3-2 si mette è stato un vortice di emozioni che secondo me davvero chi il calcio lo vive in una maniera simile alla mia capirà di quello che vi sto parlando ma poi il bello davvero che la preferenza ce la puoi avere da una squadra magari ti può stare sulle balle quell'altra nazionale per storia però poi quando non sei tifoso di nessuna delle due e riesci veramente a goderti la partita da tra virgolette neutrale secondo me è ancora più bello e quindi oggi c'è solamente da dire grazie c'è soltanto da ringraziare di poter aver visto uno spettacolo di quasi due ore perché tra un recupero lunghissimo i supplementari e i rigori davvero ne avrei voluto ancora proprio come un tossico dipendente che non ne può fare a meno ecco io oggi ero veramente dipendente dalla finale di coppa del mondo peccato peccato perché questi spettacoli qua sono sono rari sono rari e sono già qua che penso chissà chi sa chi la gioca chissà chi la alza stavolta stavolta messi ma poi potrebbero alzarla insieme perché anche qua pensare che questi due giocano nella stessa squadra è che li ho già visti giocare due volte al vivo quest'anno a Parigi a Torino sono fortuna cioè è inutile girarci intorno sono fortuna e basta e dobbiamo ritenerci fortunati a Torino